Giallo a Scicli si suicide il direttore dell'ufficio postale, Guglielmo De Libera, il corpo ritrovato dai carabinieri nella casa di villeggiatura Marina di Modica, ad accatentanto due giovani annegano in una vasca artificiale. Colpo di scena nella vicenda della costituzione delle nuove camere di commercio, Beragusa e Siracusa le proposte per la fusione dei due enti lasciando fuori Catania. Oggi ultimo giorno di campagna elettorale in vista del voto di domenica 5 giugno, a vittoria arriva l'ultimo big, a mezzanotte scatta il silenzio per la pausa di riflessione, intanto il sindaco saluta istituzionalmente la città. La regione approva il calendario del nuovo anno scolastico, si torna tra i banchi il 14 settembre, confermata la durata delle vacanze di Natale, più brevi quelle di Pasqua. Ben trovati con l'informazione di Canale 74, Dolore Cordoglio a Scicli per il suicidio di Guglielmo De Libera, il direttore dell'ufficio postale che si è impiccato nella sua casa di Marina di Modica. I carabinieri stanno indagando sulle cause che avrebbero spinto l'uomo a farla finita, mentre la magistratura ha disposto l'autopsia. Sentiamo i particolari. La città di Scicli è ancora scossa dopo la tragedia che ha colpito la famiglia di Guglielmo De Libera, il 58enne che si è tolto la vita nella sua casa di via Magellano a Marina di Modica. Per due giorni aveva fatto perdere le sue tracce. I familiari preoccupati del fatto che non fosse rientrato a casa e non riuscendo più a rintracciarlo avevano allertato le forze dell'ordine. Poi dopo 48 ore la terribile scoperta. Le preoccupazioni si sono dimostrate fondate e il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato dai carabinieri. De Libera era molto conosciuto in città anche per via del suo lavoro. Era infatti il direttore dell'ufficio postale di via Mazzini a Scicli. Non si sa ancora cosa lo abbia portato a decidere di farla finita legandosi un cappio al collo e impiccandosi. Sul posto, dopo il triste ritrovamento del corpo, si sono recati anche il medico legale e il pubblico ministero di turno. Quest'ultimo ha disposto l'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte. Adesso un'intera città è ancora sotto shock e si stringe attorno al dolore dei familiari. E due giovani originari del Ghana sono morti annegati nella serata di ieri a Dakate in contrada a Chiappa, in un invaso artificiale per la raccolta d'acqua per l'irrigazione. Il 28enne e il 26enne, insieme ad altri connazionali, stavano pescando quando uno dei due è scivolato. L'amico ha cercato di aiutarlo, ma a causa del fango anche lui è scivolato nel laghetto. Gli amici hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, i vigili del fuoco di Ragusa e i sommozzatori di Palermo. Le salme dei due africani sono state recuperate attorno alle 5 del mattino, ma gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Akate proseguono per chiarire l'esatta dinamica della vicenda. E ora la pagina politica. Progetto popolare per Modica rilancia l'allarme sulle privatizzazioni. Dopo la denuncia sulle intenzioni dell'amministrazione comunale di privatizzare il servizio idrico e il tentativo del sindaco di difendere il suo operato, il gruppo politico lancia nuove accuse. Sentiamo i particolari. Qualche giorno fa, progetto popolare per Modica aveva lanciato l'allarme privatizzazioni in città. I rappresentanti del progetto politico avevano puntato il dito contro la tendenza di Palazzo San Domenico a privatizzare servizi essenziali per i cittadini, dal servizio della riscossione tributi fino a quello delle strisce blu, facendo levitare i costi per i modicani, nonostante l'amministrazione non navichi certo in buone acque dal punto di vista finanziario. A destare preoccupazione negli scorsi giorni era stata una determina che prevedeva la nomina del RUP per esaminare un project financing per la costruzione di un'infrastruttura volta ad ottimizzare le fasi di adduzione e distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del comune di Modica. Progetto popolare per Modica e di consiglieri comunali Claudio Gugliotta e di Adesso Modica, Michele Polino, indipendente, e Roberto Caraffa dell'Udc, avevano perciò lanciato un grido d'allarme a tutte le opposizioni politiche, le associazioni e tutti i corpi intermedi per opporsi a quella che aveva tutta l'area di essere un primo tentativo di dare l'acqua in mano ai privati, ancora una volta a discapito delle famiglie e dei cittadini. Arrivano adesso le rassicurazioni del primo cittadino Ignazio Abate. Nessuna intenzione di privatizzare l'acqua, il RUP nominato avrebbe infatti già rigettato la richiesta presentata dalla ditta privata che puntava solo alla gestione dei contatori, non ritenendola vantaggiosa per l'ente. Si sarebbe trattato quindi, secondo il primo cittadino, di una normale procedura. Viene cioè presentata una richiesta che è poi analizzata dal RUP, il quale si pronuncia in suo favore o meno. Abate ha accusato inoltre il progetto popolare di mancare di originalità, essendo stata la questione già sollevata dal consigliere di Selle Vito D'Antona. Secca arriva la risposta dei rappresentanti del gruppo che in una nota scrivono Se al sindaco non fosse passato nemmeno per la testa, come ha affermato, di privatizzare anche solo un aspetto del servizio idrico, non avrebbe di certo nominato il RUP perché non vi è obbligo in questo senso. Bastava semplicemente non dare corso alla richiesta. E non convince la tesi secondo cui il RUP doveva valutare necessariamente la convenienza per l'ente visto che l'oggetto dell'intervento del progetto di finanza andava ben oltre la semplice gestione dei contatori. E sull'accusa di inesperienza e mancanza di originalità lanciate dal primo cittadino al neocostituito movimento politico, il gruppo risponde per le rime. Su questi temi, caro sindaco, avrebbe fatto meglio a tacere. Riscopiazzeremo volentieri se se ne presenterà l'occasione. Saremo pure inesperienti, ma abbiamo la speranza di imparare, ma non certo dal sindaco, da cui l'unico apprendimento potrebbe essere l'arroganza e la presunzione. E' colpo di scena nella tormentata vicenda della costituzione delle nuove Camere di Commercio. Mentre la politica cerca di trovare, come si dice la quadra, da Siracusa arriva alla proposta di un accorpamento tra l'entare Tuseo e la Camera di Ragusa, lasciando fuori Catania. Proposte che riprendono una presa di posizione simile che qualche giorno fa era partita proprio dal capologo Ibleo. La soluzione della maxicamera del sud-est che dovrebbe fondere le Camere di Commercio di Ragusa, Siracusa e Catania, sembra non convincere tutti e l'eventualità di un dietro front sembra non essere poi così remota. Già il segretario provinciale della Confederazione Artigianato e PMI della provincia di Ragusa, Giovanni Brancati, aveva lanciato nei giorni scorsi la proposta di accorpare l'ente camerale Ibleo a quello a Retuseo, lasciando Catania andare avanti per la sua strada da sola. Opinione condivisa questa anche dal Presidente di Confesarcenti Atturo Linguanti, che era stato tra i primi a bocciare la proposta di fusione degli enti camerali del sud-est. Siracusa e Ragusa infatti avrebbero i numeri per poter rimanere insieme senza il capoluogo etneo. Le due province contano infatti circa 80.000 aziende e quindi supererebbero il limite minimo imposto di 75.000 iscritti. Certo la fusione permetterebbe al sud-est di diventare con le oltre 200.000 aziende inglobate il terzo polo camerale del Paese, ma dichiara Linguanti, Ragusa e Siracusa rischiano di scomparire e diventare una succursale. Secondo il Presidente di Confesarcenti, inoltre la sua opinione sarebbe condivisa da oltre il 90% dei soci e i tempi per fare un passo indietro ci sarebbero ancora. Maggiori sarebbero infatti le affinità tra il territorio ragusano e quello retuseo, dall'agricoltura al turismo fino al commercio. E questa soluzione attenuerebbe, come aveva sottolineato il segretario della CNA Iblea, la lotta senza quartiere per il predominio nella governanza sul sistema aeroportuale di Catania e Comiso e diminuerebbe in tutti la tentazione di utilizzare qualunque mezzo per prevalere gli uni sugli altri. Siamo adesso a Vittoria dove il Sindaco Giuseppe Nicosia ha portato il suo saluto istituzionale alla città a conclusione dei dieci anni di mandato. Nel corso di una manifestazione, mercoledì sera, al Teatro Comunale, il primo cittadino ha ripercorso gli anni della sua amministrazione alla presenza di numerose autorità locali, provinciali e regionali. Una manifestazione per salutare istituzionalmente la città a conclusione dei dieci anni di mandato. Il Sindaco di Vittoria Giuseppe Nicosia ha scelto il simbolo monumentale e culturale della città, il Teatro Comunale, per il commiato amministrativo. Alla presenza di numerose autorità comunali, provinciali e regionali, il primo cittadino vittoriese ha ripercorso, durante una intervista dal palco, con l'ausilio di supporti video, l'attività del suo governo in carica dal 2011. Un saluto istituzionale, un saluto alla città, un saluto a quanti mi hanno collaborato, un saluto, penso, doveroso nei confronti della città che mi ha dato tanto in termini di sostegno, di consenso, di soddisfazioni, e alla quale ho cercato di ricambiare con impegno, passione e dedizione. Un saluto per fare anche il punto della situazione, sulle tante cose fatte, su qualche compiuta. un consuntivo di 10 anni che sono un pezzo di vita, veramente sono lunghissimi, tutti vissuti intensamente, con le gioie, con le soddisfazioni che può regalare la guida di una città e la rappresentanza di una città così importante, ma anche con i dolori, con le difficoltà di un periodo di crisi senza precedenti, ingrato veramente per chiunque amministri gli enti locali, o con i tanti eventi che hanno connaturato questi 10 anni, alcuni tragici, alcuni invece splendidi, di grandissima crescita, quindi 10 anni che ripercorriamo qualche emozione, ma soprattutto molto senso delle istituzioni e del dovere, e un saluto a questa città che ovviamente non smetterà mai di essere la città di chi ha fatto il sindaco, è una maglia che si tatua addosso sulla pelle di chi lo fa e lo continua ad essere a vita. Tra i presenti anche il segretario regionale del Partito Democratico, Fausto Raciti, che abbiamo avvicinato per un suo commento. Io credo che sia stato un ciclo importante per la città, credo che sia stato portatore di un messaggio di innovazione, insieme abbiamo affrontato tante sfide difficili, soprattutto nell'ultimo periodo in cui, non per responsabilità del sindaco, ma la crisi si è fatta sentire, e lui ha avuto la capacità di fare sentire forte la voce di Vittoria in regione, fuori Vittoria, fino al Ministero, fino al Governo. Noi lo abbiamo accompagnato in questo percorso con grande piacere, speriamo che come Partito Democratico l'esperienza positiva di questi anni possa continuare in questa città. L'ultimo giorno di campagna elettorale, anche nei comuni siciliani interessati al voto amministrativo di domenica 5 giugno. A Vittoria l'attesa si fa sempre più spasmodi che i candidati stanno sfruttando le ultime ore a disposizione per gli ultimi incontri pubblici. Domani scatterà la giornata della riflessione e del silenzio prima dell'apertura delle urne che avverrà domenica alle 7. Intanto nella città Iparina, mercoledì sera ha fatto tappa, il deputato e portavoce dei 5 Stelle, Alessandro Di Battista, il servizio. In tantissimi al grido di onestà hanno accolto mercoledì sera Alessandro Di Battista, arrivato a Vittoria a sostegno del candidato sindaco, Carmelo Giordanella. Prima che sia troppo tardi, concediamoci un'opportunità tutti insieme, metteteci alla prova. Con queste parole Di Battista, portavoce alla Camera dei Deputati e membro del gruppo politico che coordina a livello nazionale il Movimento 5 Stelle, ha concluso il suo intervento durante il comizio sul palco montato nell'isola pedonale Vittoria Colonna, vicino a Piazza Italia. Accanto a lui il candidato sindaco, Carmelo Giordanella, e gli attivisti del Movimento 5 Stelle, oltre a Ignazio Corrao, portavoce al Parlamento europeo, Maria Lucia Rorefice, portavoce nazionale, Vanessa Ferreri, portavoce all'Assemblea regionale, e Federico Piccitto, sindaco 5 Stelle di Ragusa. Nel suo intervento Di Battista non è sceso nei particolari del dibattito politico vittoriese, ripercorrendo in linea generale i claim del Movimento. Sentiamo l'affetto delle persone, ha detto Di Battista, e la gratitudine, perché stiamo combattendo per l'interesse generale. Noi staremo nelle istituzioni solamente un tempo limitato, proseguito il portavoce alla Camera dei Diputati dei 5 Stelle, poi torneremo nel mondo reale ed è il nostro interesse migliorarlo. Si vede il nostro impegno, che crediamo in quello che facciamo, e fino a quando avremo un popolo che non soltanto ci sostiene, ma che ci fa anche pressione, ci controlla, questo fa sicuramente bene e ci spinge a fare sempre di più. Alessandro Di Battista è stato l'ultimo dei pochissimi big passati da vittoria in questa campagna elettorale. La quasi totale assenza dei partiti tradizionali, di fatti ha eliminato le tradizionali passerelle dei rappresentanti nazionali di questo o di quella formazione politica. Il risultato è stato una campagna elettorale dai toni decisamente bassi, anche se non sono mancati gli attacchi, anche forti, e non si esclude che in alcuni casi ci possano essere delle appendici giudiziarie per via di qualche querela al momento solo annunciata. I nove candidati a sindaco e i quasi 500 al Consiglio Comunale sono concentrati a cercare di convincere gli indecisi e avranno fino alla mezzanotte di oggi per farlo. Domani infatti scatterà la cosiddetta pausa di riflessione prima di domenica 5 giugno, quando dalle 7 in poi si potrà votare fino alle 23, lo ricordiamo, in una sola giornata. Gli aspiranti sindaci si spartiranno una torta di poco più di 20.000 voti validi e alcuni analisti affermano che al momento ci sarebbero ancora circa 6.000 voti fluttuanti, cioè quelli degli indecisi, appunto, che solo nella giornata del voto si andranno a posizionare definitivamente. Ecco perché la partita è difficile per tutti e perché non basterà il primo turno a consegnare alla città il nuovo sindaco. In questa finale, infatti, per dirla alla calcistica, saranno necessari i tempi supplementari, cioè il ballottaggio del 19 giugno per decretare il vincitore finale. E torniamo alla cronaca. Tre persone denunciate in concorso per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Si tratta di un uomo di 24 anni che, accompagnato dai suoi due nipoti di 22 e 20 anni, è stato sorpreso con tre dosi di stupefacente di tipo marijuana, confezionata separatamente nei pressi di alcuni istituti superiori di Ragusa. Nel controllo della Polizia di Stato è emerso che si trattava di soggetti già noti con numerosi precedenti penali per furto aggravato, ricettazione, rapina, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, con a carico per uno di essi della misura di sorveglianza speciale. Occultata all'interno di una tasca interna dei pantaloni del 22enne, un pacchetto di sigarette con tre distinte dosi confezionate in sacchetti di plastica di sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 4 grammi che è stato sottoposto a sequestro. Hanno invece patteggiato la pena i due presunti corrieri della droga vittoriesi arrestati nell'ambito delle indagini su un traffico di cocaina tra Catania e la città Ipparina. Si tratta di Angelo Ventura di 28 anni e di Bruno La Terra di 45, i quali, lo ricordiamo, erano stati scoperti con la droga nascosta negli slip. Il giudice delle udienze preliminari, Claudio Maggioni, ha condannato ai due a tre anni sei mesi e venti giorni di carcere. Considerata l'applicazione delle attenuanti per i due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Ammontano a 270 mila euro gli introiti della tassa di soggiorno a Scicli, una somma che conferma l'aumento delle presenze turistiche in città e che la triade commissariale pensa di poter utilizzare nel potenziamento dei servizi per far fronte al flusso turistico in crescita. Vi sono infatti delle carenze strutturali che rendono difficile la gestione delle presenze turistiche come l'assenza di bagni pubblici, la mancanza di punti di informazione distribuiti sul territorio e parcheggi adeguati. La metà degli introiti della tassa di soggiorno 130 mila euro dovrebbe essere destinata all'accoglienza e alla facilitazione dei percorsi turistici mentre altri 50 mila euro andranno alle manutenzioni delle spiagge e alla pulizia del territorio previsti inoltre somme per l'arredo urbano e l'illuminazione pubblica. E ci spostiamo adesso a Comiso dove sarà portato in aule il 20 giugno il bilancio di previsione del comune. Prima però il civico consesso dovrà affrontare il nodo del conto consuntivo. intanto è stato già approvato il piano triennale 2016-2018 delle opere pubbliche. Verrà presentato in aula consigliare il prossimo 20 giugno il bilancio di previsione del comune di Comiso. Un bilancio già pronto ma che il 13 giugno dovrà affrontare il nodo del conto consuntivo. Il reddiconto finanziario infatti presenta un passivo di oltre un milione e 500 mila euro che dovranno essere recuperati nei prossimi anni. tra questi pesano anche le somme accantonate per i debiti di dubbia esigibilità. Comiso si appresta quindi a chiudere il dissesso ma dovrà fare i conti con un alto indebitamento. Infatti saranno a carico del comune tutti i debiti non pagati dalla commissione che ha gestito il dissesto. Inoltre il comune dovrà accantonare le somme per il possibile ripianamento del passivo di Soaco che nel 2015 è stato di circa 2 milioni 500 mila euro. Intanto il consiglio comunale va avanti e nell'ultima seduta ha approvato il piano ARO il regolamento di contabilità e il piano triennale delle opere pubbliche. Nello specifico si tratta di 15 opere che renderanno più moderna la città riguardante soprattutto la sicurezza stradale. Inoltre sono previsti degli spazi verdi a comise pedalino e ripristino di tutte le strutture sportive. Tutti i provvedimenti di interesse cittadino che non sono stati votati dal PDL e da Comiso Vera. Spiegando la loro decisione il capogruppo di Comiso Vera Maria Rita Schembari ha replicato chiedendo maggiori informazioni all'interno della seduta ma non è stata data nessuna risposta. Inoltre dopo aver bocciato l'emendamento per il piano occupazionale presentato dagli stessi consiglieri questi hanno dato risposta negativa per quanto riguarda il piano triennale delle opere pubbliche. Opere che secondo quanto affermato dalla Schembari verranno realizzate con la Cassa Depositi e Prestiti aumentando così i debiti del Comune. E ancora non è suonata per i ragazzi l'ultima campanella scolastica di quest'anno e già si guarda al prossimo infatti mercoledì scorso è stato firmato il decreto che prevede l'inizio la fine e le festività per l'anno scolastico 2016-2017. Il provvedimento firmato dall'assessore regionale alla formazione istruzione Bruno Marziano stabilisce che il prossimo 14 settembre avranno inizio le lezioni per tutti gli studenti siciliani e termineranno venerdì 9 giugno. Inoltre nel decreto si legge che le vacanze di Natale inizieranno il 22 dicembre e termineranno il 6 gennaio ma è poiché il 7 sabato si tornerà in classe il 9. Un po' più brevi le vacanze di Pasqua che interesseranno tutti gli studenti dal 13 al 18 aprile. In Sicilia ci sarà un giorno di vacanze in più rispetto al resto d'Italia per celebrare la festa dell'autonomia il 15 maggio per il resto le altre giornate di festa sono quelle tradizionali in totale i giorni di scuola saranno 208 nelle scuole dell'infanzia come ogni anno il termine dell'anno scolastico è stato fissato per il 30 giugno. E si è svolto a Scicli un master sulla cosiddetta filosofia Kaizen ovvero una tecnica di miglioramento psicofisico che in Giappone è stata la base del successo di numerose aziende multinazionali tra cui la Toyota. Nella giornata di mercoledì presso la struttura di casa imbastita a Scicli si è tenuto un master sulla filosofia Kaizen ovvero sul miglioramento continuo verso il raggiungimento della qualità totale il cambiamento che ha permesso alle più grandi aziende giapponesi di primeggiare sui mercati mondiali la Toyota ad esempio è il simbolo della filosofia Kaizen relatore del master Luciano Ghelli una lunga carriera ai vertici di grandi multinazionali è una passione per il judo che lo ha portato sin da bambino ad avvicinarsi ad abbracciare la filosofia nipponica la filosofia del Kaizen è nata in Giappone per una ragione specifica per la cultura giapponese la cultura giapponese che dopo che è stata aperta all'occidente addirittura nel 1853 con le cannoniere del comodoro Perry nella baia di Tokyo il Giappone si è dovuto ha dovuto aprire gli occhi all'occidente e ha scelto una strada ha detto se dobbiamo occidentalizzarsi lo facciamo alla nostra maniera con la nostra cultura e da lì hanno cominciato a studiare come lavorare e come usare il loro spirito della collettività per ottenere risultati in tutti i campi il principio del miglioramento continuo è il principio del seriocuzenio di Gigoro Cano il miglior uso dell'energia per cui non sprecare energia inutilmente ma cercare l'energia che impi nel tuo lavoro nel fare il giudzo sulla materassina nell'insegnare nel fare la tua vita usa la tua energia per far crescere te e crescere gli altri che sono con te una metodologia dunque che è un vero e proprio stile di vita perché la trasformazione verso il concetto di qualità totale si può realizzare con l'uomo non con le macchine la filosofia Kaizen trova un suo collegamento naturale con il giudo come spiega il maestro Maurizio Pelligra che il Kaizen altro non è che il pensiero di Gigo Rogano del fondatore del giudo che praticamente lui ha impostato tutta la scuola giapponese per cui è filosofia del giudo applicata alle aziende e alle industrie il Kaizen quindi per questo motivo abbiamo scelto questo argomento perché il relatore di oggi Luciano Ghelli che è stato un grosso manager del passato basta pensare che ha diretto ha portato la DHL in Italia ha diretto la Federal Express americana la Max Meyer ha fatto accordi con i cinesi per la Max Meyer quindi è un personaggio di tutto rilievo lui ci aveva mandato 4-5 argomenti e noi abbiamo scelto il Kaizen proprio perché era il concetto della filosofia del giudo applicata alle industrie ed è stata inaugurata ieri la sagra del pesce azzurro e del pomodoro di Donna Lucata ottimi piatti naturalmente a base di pesce e pomodoro locale stende attrazioni per i più piccoli che animeranno la frazione rivierasca fino al 5 giugno inaugurata ieri la sagra del pesce azzurro e del pomodoro di Donna Lucata lo spazio espositivo ubicato nel campo di atletica della frazione balneare ha visto la partecipazione di un folto pubblico che ha avuto la possibilità di degustare ottimi piatti a base di pesce ingrediente principale anche per i primi piatti serviti e gustosi secondi accompagnati naturalmente da insalata di pomodoro locale in tantissimi abbiamo notato anche la presenza di numerosi turisti si sono accalcati allo stand gastronomico per gustare le prelibatezze servite ma le persone hanno avuto anche la possibilità di fare un giro tra i coloratissimi stand che offrono una miriade di opportunità di acquisto senza trascurare un ricco parco divertimenti con giostre e attrazioni di vario tipo per la gioia dei più piccoli la performance rivierasca sarà fruibile fino a domenica 5 giugno con apertura sia mattutina che sarà e domani sabato 4 giugno transiterà anche in provincia di Ragusa il giro di Sicilia Targa Florio promosso da club Panormus è giunta alla 36esima edizione sono 4 le tappe che interesseranno l'area eblea l'arrivo è prevista a vittoria in corso Garibaldi alle 11.45 il transito a comiso invece è fissato intorno alle 12 mentre le auto storiche arriveranno a modiche in corso Umberto intorno alle 12.50 inoltre a Ragusa Ible in piazza Duomo alle 14.30 ci sarà la partenza di una tappa nel corso di quest'ultima iniziativa che ricade nel contesto dei solenni festeggiamenti in onore di San Giorgio è prevista la cerimonia di benedizione della prima auto è ieri la terza edizione della mostra canina della Contea a modiche in viale medaglie d'oro soddisfatti gli organizzatori per il grande successo di pubblico e di iscritti si svolta ieri la terza mostra cinofila della Contea in viale medaglie d'oro un appuntamento e chi ha visti coinvolti non sono cani di razza ma anche medici Angelo Cassarino Loris Battaglia e l'associazione Galapagos Amici degli Animali anche quest'anno sono riusciti ad organizzare un evento unico nel suo genere tanti partecipanti che come ogni anno hanno voluto far sfilare l'amico più fedele gli amici a quattro zampe sono stati divisi non solo tra razza e medici ma anche in varie categorie i più piccoli naturalmente baby di età compresa tra i 3 e i 6 mesi subito dopo la categoria giovane tra i 6 e i 12 mesi e infine gli adulti di età superiore ai 12 mesi tutte categorie che si sono ospidati a colpi di passerella Il suo cane è vincitore di quale categoria? Della categoria giovani Come si chiama? Quanti anni ha? Ce lo vuole descrivere un po'? Si chiama Aspen a 14 mesi è un broken Jack Russell e niente abbiamo partecipato qui per passare un giorno diverso degli anni Com'è stata questa esperienza? È stata un'esperienza carina condividere con tutti gli altri amici è stata una bella esperienza Come ogni anno presenti esperti del settore canino quest'anno a giudicare le varie categorie sono stati Carmelo Brafa e Gaetano Mammana Abbiamo qui con noi uno dei giudici della mostra Gaetano Mammana Cosa ci vuole dire di questa mostra? Come è stata organizzata? Innanzitutto sì è una mostra organizzata bene sicuramente perché è organizzata da persone appassionate cinofile quindi avanti dei cani e devo dire che è stato fatto tutto tutto bene sia per quanto riguarda la location perché è un posto che sia adatto per una manifestazione di questo tipo i premi insomma tutto è stato organizzato bene sono delle manifestazioni che secondo me queste qui molto interessanti per promuovere anche la cultura cinofila quindi quello che sono non solo i cani di razza come state vedendo giudichiamo delle razze diverse ma anche i meticci anche i junior render sarebbero dei bambini che imparano a condurre il proprio cane e che quindi vengono giudicati per questo tutto questo fa sì che si accresca anche nella gente proprio una cultura cinofila per come tenere bene i cani per installare con loro un rapporto giusto quali sono i criteri di giudizio che avete utilizzato? Allora i criteri di giudizio per quanto riguarda i cani appartenenti a delle specifiche razze sono quelli un po' dettati comunque dallo standard cioè dire ogni razza ha uno standard che descrive come questo cane deve essere fatto quindi la conformazione della testa del tronco il tipo di mantello il colore l'altezza e quindi diciamo il cane che vince il cane che viene decretato più bello non è una bellezza così diciamo effimera ma è una bellezza dovuta all'aderenza a questo standard quindi il cane che più si avvicina ai canoni che deve avere in base alla razza a cui appartiene è il cane che vince oltre a quello abbiamo giudicato prima anche dei meticci che loro non hanno uno standard di razza perché il meticcio è un cane fantasia lì premiamo insomma la simpatia il rapporto che c'è fra il cane e il proprietario lo stato anche di salute del cane che si evince dal tipo di pelo quindi se è un pelo lucido pulito in ordine devo dire che è un cane che è tenuto bene in salute e quindi queste sono cose da premiare questa quindi è stata una mostra anche con un obiettivo educativo per i padroni sicuramente è un obiettivo educativo per i proprietari dei cani e anche per chi non ha magari in questo momento un cane ma si vorrebbe avvicinare a questo mondo a questo universo canino che quindi a modo di vedere non solo razze diverse quindi perché poi per ogni persona c'è la razza che più si addice in base ai propri gusti alle proprie esigenze e insomma capire come vanno un po' tenuti e gestiti i cani gli organizzatori si dicono soddisfatti del grande successo di pubblico e ringraziano tutti i sponsor che hanno aderito all'evento e passiamo allo sport al basket femminile Benedetta Bagnara ha firmato con la passalacqua a spedizioni la guardia bolognese classe 1987 sarà a Ragusa nella giornata di domani per le visite mediche e la presentazione con la stampa Bagnara ha disputato le ultime due stagioni con l'Umana Reier Venezia e precedentemente aveva militato per quattro anni a Lucca dopo aver vestito le maglie di Umberti De Livorno La Spezia e Reggio Emilia una giocatrice d'esperienza che si va ad aggiungere alla riconferma di Gaia Gorini agli annunci di Laura Nichols Laura Spreafico e Giulie Vallò La presentazione in conferenza stampa in programma domani pomeriggio alle 18.30 al Palaminar di Ragusa Bene questa era l'ultima notizia per oggi il nostro telegiornale termina qui o vi ricordo come sempre che potete continuare a seguirci su www.canale74.com dove potete rivedere le edizioni del TG e i singoli servizi grazie per l'attenzione e arrivederci a